Se stai guardando questo video, è perché l'universo ha deciso di guidarti fino a questo momento. Tutte le tue incertezze saranno presto dissipate, basta che tu ascolti quanto seguirà. Hai mai avvertito uno strano ronzio, fischio o sibilo nelle orecchie che sembra comparire dal nulla? Ciò che per alcuni potrebbe essere un fastidio passeggero, per molte tradizioni spirituali, è il segno di significati profondi e misteriosi che non vanno ignorati. Se continui a sperimentare questo fenomeno, fai attenzione. Potrebbe essere l'universo stesso che cerca di comunicarti un messaggio importante. Ecco otto significati spirituali comuni del ronzio nelle orecchie spiegati in modo semplice da capire. 1. Le tue guide spirituali stanno cercando di comunicare. Una delle credenze più diffuse è che il ronzio nelle orecchie sia causato dalle tue guide spirituali che cercano di attirare la tua attenzione. Proprio come potrebbero inviarti piume, monete, animali o canzoni come segni, il rumore di ronzio è un altro modo in cui il tuo spirituale ti dà un dolce colpetto per farti ascoltare. Pensalo come un ciao etereo, una telefonata dai regni non fisici dove vivono le tue guide. Se il ronzio persiste, probabilmente significa che hanno un messaggio importante che vogliono davvero che tu ascolti. Attraverso la preghiera, la meditazione o semplicemente stando fermo e osservando. Forse stanno cercando di avvertirti di qualcosa, darti una guida per un problema con cui stai lottando o ricordarti che sei supportato, anche se non puoi vederlo. Non ignorarlo. Cerca di calmare la mente e sintonizzati come una radio psichica per captare la loro trasmissione. 2. Stai vivendo un cambiamento nella tua vibrazione. In molte credenze metafisiche si dice che tutto nella nostra realtà sia composto da frequenze di energia vibratoria. Il ronzio nelle orecchie può segnalare che stai attraversando un cambiamento o un aumento della tua vibrazione personale e del tuo schema energetico. Mentre rilasci vecchie paure, credenze e schemi o blocchi energetici dalla tua mente, corpo e spirito, inizi letteralmente a vibrare a un nuovo ritmo. Il ronzio agisce come un pulsante di reset energetico, riallineandoti con una frequenza vibratoria più alta. Se il ronzio accade improvvisamente o intensamente, non andare nel panico. Vedilo come una conferma che stai crescendo spiritualmente e stai abbandonando strati passati che non ti servono più. Stai letteralmente entrando nella prossima evoluzione del viaggio della tua anima. Abbraccia il processo e sii aperto alle nuove esperienze, persone e comprensioni che questo aggiornamento vibratorio porterà nel tuo cammino. 3. Stai per vivere una rivelazione. Quel suono di ronzio potrebbe essere un avvertimento amichevole dall'universo, che stai per ricevere un profondo download spirituale, un'epifania creativa o una rivelazione che cambierà la tua vita. È come se il tuo sé superiore o le forze cosmiche stessero allineando le tue frequenze coscienti e inconsce, preparandole perfettamente per ricevere importanti intuizioni, chiarezza o comprensione su qualcosa su cui stai lavorando. Quando il ronzio accade e diventa molto presente, presta attenzione extra ai segni, sincronicità, sogni e pensieri che ricevi nei giorni seguenti. Il ronzio potrebbe averti preparato a ricevere una svolta o delle risposte che cercavi. Non trascurare nessuno dei piccoli segnali che seguono probabilmente hanno un'importanza più profonda. 4. Sei spinto ad essere più presente. Nel nostro mondo frenetico e caotico è così facile vivere costantemente nella mente, concentrati sul passato o preoccupati per il futuro, piuttosto che essere radicati qui e ora. Una delle interpretazioni del ronzio nelle orecchie è che è il modo dell'universo di svegliarti da quella frenesia mentale dicendoti «Ehi, tu, sii qui ora, sii presente». Il ronzio agisce come una campanella d'allarme per fermarti da qualsiasi cosa tu stia facendo, calarti nel corpo e riconnetterti al respiro e alla solidità di questo momento preciso. Usalo come un segnale per fare una pausa e darti un reset ogni volta che lo senti. Il ronzio potrebbe essere un'opportunità per lasciare andare tutto ciò che hai in sospeso e semplicemente per stare senza alcun programma per un po'. 5. Stai sviluppando abilità psichiche. Per coloro che sono su un percorso spirituale di sviluppo dei propri doni extrasensoriali o capacità intuitive, il ronzio nelle orecchie può significare che i tuoi poteri psichici di chiaro udienza, di ascolto spirituale, si stanno intensificando. È come se le tue orecchie spirituali si stessero risvegliando e sintonizzando su nuove frequenze energetiche dai regni non fisici. Il ronzio può essere sperimentato mentre apri più canali per ascoltare guide, intuizioni e impressioni energetiche dai reami invisibili. Se continui a sentire un ronzio nell'orecchio sinistro, questo potrebbe significare che stai per ricevere un messaggio importante dalle tue guide spirituali e che sta arrivando da quel lato. Non ignorarlo. Cerca di sintonizzarti su qualsiasi guida e pratica venga trasmessa e di concentrarti sulle tue abilità di ascolto psichico. 6. Stai rilasciando karma o blocchi spirituali. Un'altra prospettiva sul ronzio nelle orecchie è che ti trovi nel processo di rilascio di vecchi schemi karmici, ovvero blocchi energetici oppure emozioni dense e forme di pensiero dal tuo corpo energetico sottile. Questo purging energetico, se vogliamo chiamarlo così, può manifestarsi come un ronzio o una pressione nelle orecchie mentre il tuo campo energetico attraversa una pulizia. Il ronzio è essenzialmente un drenaggio spirituale che elimina eventuali vibrazioni più basse o detriti psichici negativi, così che i tuoi percorsi energetici siano liberi per far fluire più luce, abbondanza e benedizioni. Anche se può essere scomodo, come ogni disintossicazione, considera il ronzio come una conferma che questo processo sta avvenendo, così da poter chiamare opportunità più grandi e aggiornare la tua vita. 7. Stai avendo una comunicazione telepatica. In molte culture antiche e indigene, la telepatia, lo scambio di pensieri ed energia senza parole, ciò che era considerata una parte normale dell'esperienza umana, alcune credenze indicano che il ronzio nelle orecchie, specialmente in uno specifico orecchio, come il destro o il sinistro, possa indicare che stai captando telepaticamente i pensieri, l'energia o le intenzioni di qualcun altro che ti sta dirigendo in quel momento. È una forma di comunicazione telepatica in cui ti sintonizzi sull'impronta vibratoria e la frequenza di ciò che qualcun altro sta trasmettendo su di te, anche da lontano. Vedi se riesci a calmare la mente e sintonizzarti su eventuali volti o messaggi che emergono. Potrebbe essere una persona cara che semplicemente sta controllando o qualcuno con questioni irrisolte che fa un'apparizione energetica. Per cui apri i tuoi canali di ascolto psichico quando succede. 8. Le tue manifestazioni stanno prendendo forma. Secondo la filosofia inerente alla manifestazione dei tuoi desideri attraverso pensieri, credenze ed energia, alcuni metafisici credono che il ronzio nelle orecchie potrebbe essere il suono vibrazionale delle tue intenzioni, che iniziano a materializzarsi dai regni invisibili dello spirito alla realtà fisica. È come se stessi origliando il processo dietro le quinte della costruzione del tuo progetto prima che si assembli completamente. Il ronzio è come un avvertimento personale dall'universo che la tua visione sta venendo codificata e creata su piani sottili in base alla tua richiesta focalizzata. Ciò che hai immaginato e creduto ora sta emergendo come energia prima di diventare una circostanza solida nella tua vita. Il ronzio, quindi, agisce come un segnale incoraggiante per continuare a vibrare alla tua frequenza più alta, mentre i tuoi sogni continuano a prendere forma e consistenza. Che tu possa interpretare il ronzio letteralmente come un segno spirituale, o che possa tu usarlo più come una metafora per essere radicato, intuitivo e aperto alla magia dell'universo. Assicurati di prestare molta attenzione la prossima volta che le tue orecchie iniziano a ronzare. Potrebbe essere proprio il colpetto di cui hai bisogno per aumentare la tua vibrazione e sintonizzarti su un livello di consapevolezza completamente nuovo. Se hai recepito ed interiorizzato l'argomento ti invito a lasciare un commento scrivendo, onoro il mio bisogno di scomparire e ricaricarmi, riconnettendomi con il mio vero io. Lo riterrei cosa apprezzabile. E ti invito a lasciare un like di gradimento e ad iscriverti al canale per non perderti i nostri prossimi interessanti contenuti di valore. Grazie per averci deliziato della tua compagnia e come sempre, sottolineando le parole di Emil Zola, ti auguro una vita tale e così dolce, che non possa essere mai e poi mai cattiva. A presto!